Il fenomeno febbre del Nilo occidentale o West Nile è destinato ad aumentare, lo dice il virologo e presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco Giorgio Palù, almeno fino a settembre. A guardare le statistiche la provincia di Padova è da giugno uno dei territori più colpiti con 62 casi accertati dal Dipartimento Prevenzione dell'Ulse 6. L'imprenditore Mariano Bellamio è stata una delle vittime padovane della febbre West Nile veicolata dalle zanzare Culex. In ospedale con febbre sopra i 40 gradi, le convulsioni dovute all'encefalite, un senso di impotenza davanti alla tragedia per sanitari e familiari che lanciano un appello alle istituzioni. Noi purtroppo abbiamo vissuto delle ore estremamente tragiche e molto velocemente, non ci siamo resi conto, non eravamo informati, non sapevamo che cosa ci aspettava e anche i sanitari quando mio padre è stato ricoverato. All'inizio brancolavano un po' nel buio, ci hanno assistito comunque in modo egregio però ci siamo resi conto che mancavano tempestivamente dei riscontri sugli esami che erano stati fatti. Per cui il mio appello è quello di chiedere all'amministrazione comunale, alle ULS, a tutti i settori che sono coinvolti di fare tutto quello che è possibile per dare le informazioni agli anziani sul protocollo da attivare, sul come poterli proteggere. L'appello è anche ai giovani perché chiedano come attivarsi, quali sintomi, quali precauzioni per intervenire tempestivamente in favore soprattutto degli anziani. È una zanzara killer, si sta muovendo, prolifera e quindi quello che io desidero chiedere è un intervento massiccio su tutti i fronti.